Guardate come sono belli i miei amori, uno più bello dell'altro, sono tristi perché li ho separati da genitori, potevano stare ancora un altro po', almeno una settimana potevano stare, però la mamma ha cominciato a fare le uova, il babbo li becchettava, insomma non era più il caso, tanto mangiare sanno mangiare, ora fanno lo ciopro della fame per dispetto, perché sperano che li rimetta genitori, ma appena la fame diventerà insostenibile, mangeranno e come se mangeranno, vero? C'erano tutti i mangiarini buoni che ho messo, non gli manca nulla, guardate che roba, da giù c'è le spighe, qui c'è l'acqua, i grit, tutti i pastoncini vari, insomma ce n'è da dare e da asservare.